Sono Tommaso Berbin, vengo da Valenza in Prunice di Alessandria, frequento la classe prima M del liceo musicale soluzoplana in Alessandria e oggi suonerò di Haydn la suonata in do maggiore, composta da Allegro, un adagio minuetto e di Prokofiev, la tarantella dell'Opera 65. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.